Via al progetto Scuole Pistoia Basket. Si tratta di un'iniziativa che è giunta alla quinta edizione e che vede la società biancorossa impegnata in prima linea a fianco del mondo scolastico della città e della provincia di Pistoia. Gli sportivi, si legge in una nota della Deflex, soprattutto quelli professionisti, devono essere esempio per le giovani generazioni e farsi promotori di corretti stili di vita e di valori importanti, quali il rispetto delle regole, dell'ambiente, della salute e del prossimo. Per questo i giocatori e gli allenatori del Pistoia Basket porteranno direttamente nelle scuole la loro esperienza sportiva ed umana. Attraverso interventi negli istituti, totalmente gratuiti, il progetto si concentra su pochi semplici obiettivi. Il primo è la diffusione del gioco della palacanestro attraverso un percorso didattico e pratico per l'acquisizione dei fondamentali relativi al minibasket. Il secondo riguarda la promozione dell'apprendimento della lingua inglese attraverso un approccio innovativo ed inclusivo che utilizza il gioco sport per arricchire il vocabolario e scoprire la pronuncia di nuove parole. Il terzo per incentivare e motivare l'educazione fisica scolastica come fonte di continua crescita nell'ambito motorio e cognitivo, proporre, valorizzare e far vivere in ogni singolo momento i valori morali e di vita che lo sport trasmette. Gli incontri del progetto Scuola Pistoia Basket si svolgeranno con la presenza di un allenatore dello staff della prima squadra, di due istruttori qualificati del centro minibasket e di almeno un giocatore professionista di Serie A. Penso che faccia piacere ai bimbi delle scuole elementari o medie poter essere a contatto con i giocatori professionisti che magari alla domenica vengono in campo a fare un canestro o un bel passaggio o altro. Quindi penso che sia un'emozione per tutti poter interagire con i giocatori che giocano il basket italiano del massimo livello. In che cosa consiste questo progetto? Consiste nel far vivere un'esperienza diversa nel senso che noi illustriamo qual è il nostro sport, qual è la pallacanestro, le prime cose, passaggi, palleggio, tiro, ovviamente con gli istruttori del nostro centro minibasket a partire da me e soprattutto far vivere queste esperienze con il giocatore professionista che gli mostra come palleggia, come tira o come passa un giocatore di Serie A. È azzecatissima secondo me l'abbinamento con l'inglese. Assolutamente, infatti io sono molto molto contento che Bob abbia accettato di darci una mano perché far sì che i ragazzi possano conoscere alcune terminologie di inglese legate anche alla pallacanestro penso che sia un momento di crescita personale per questi ragazzi.